la prossima ospite della serata la nostra Sonia buonasera ciao che qui con un sorriso larghissimo lei ha uno studio grafico no sto dicendo cose giuste è tutto giusto tutto giusto meno male dai allora uno studio grafico raccontaci un po come si è entrata in questo in questa attività professionale e come poi si è arrivato immagino che tu non hai aperto subito il tuo studio no 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 allora diciamo che ho iniziato fin da piccola mi piaceva tantissimo incollare colorare e quando ho avuto la possibilità di eri una d'arte attacchi esatto mi piaceva tantissimo ho scelto la stoccolla di grafica ho fatto i miei corsi di specializzazione la mia gavetta poi finalmente per una circostanza così dietro l'altra sono riuscita ad aprire il mio studio grafico a realizzare finalmente questo sogno di metterti in proprio da quanto tempo ce l'hai questo studio quasi un anno quasi un anno allora noi ti facciamo quasi gli auguri per il tuo primo anno grazie grazie e di che cosa ti occupi oggi allora mi occupo principalmente di grafica che significa seguire aziende attività liberi professionisti nella sviluppare la loro immagine coordinata immagine aziendale anche va dalla dallo studio del logo il bigliettino da visita volantini il sito web e social le pagine social e aiutarli nel loro percorso di presentazione dell'attività al pubblico a livello di immagine perché l'immagine è importante proprio l'impatto visivo può sembrare forse una cosa semplice però in realtà non lo è per niente no 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 assolutamente infatti molti professionisti che si rivolgono a me hanno iniziato a creare il logo perché secondo loro il logo era tutta l'immagine dell'azienda in realtà non è così perché il logo deve essere sopportato da la carta intestata il bigliettino da visita il sito web che è molto importante e i social anche certo anche delle immagini esatto esatto e poi c'è anche la carta da lettera fatture tutto ciò che le scritte adesive per i furgoni o comunque le vetrine cioè è molto vasto insomma è un campo molto vasto 360 gradi sì 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 però è importante per l'immagine dell'azienda per il modo in cui si presenta soprattutto no? esatto sì 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 la facciata che lascia di fuori esatto poi deve esserci anche la sostanza però tu non ti occupi di quello no? no io purtroppo no tu solo apparenza esatto io solo l'immagine io solo l'immagine e basta quello è il tuo ruolo almeno la sostanza ce la mette l'azienda poi teoricamente allora tu hai un sito internet www.soniabalzan.it sei anche su instagram soniabalzan underscore studio grafico cosa condividi su instagram di solito e anche sul tuo sito web? dunque principalmente i lavori che svolgo per fare un portfoglio in modo che i clienti che magari interessa contattarmi possono vedere in anteprima come il mio stile di lavoro si si avvicina alla loro alle loro esigenze esatto ho capito poi magari se ho qualche evento pubblico la partecipazione a qualche evento che a cui ho seguito la presentazione grafica con magari roll up manifesti volantini senti visto che parliamo di immagino quindi di estetica e di facciata delle aziende per cui lavori qual è una caratteristica che ti contraddistingue nel tuo modo di lavorare? allora inizialmente io preferisco sempre avere un rapporto con il cliente cioè incontrarlo valutare insieme a lui la sua idea di immagine che vuole dare quindi una volta che insieme abbiamo stilato un briefing mi occupo di sviluppare delle proposte grafiche che poi lui valuterà e poi nel caso di volantini o comunque carta stampata si andrà a stampare se no a pubblicare online e lavori da sola oppure hai collaborato? da sola tutto da sola e ce la fai a gestire tutto autonomamente? però adesso si poi vedremo se si svilupperà di più il lavoro o perché no beh io te lo auguro Sonia e vi ricordo SoniaBalzan.it SoniaBalzan underscore studio grafico su Instagram Sonia mi sto incartando nelle tue S Sonia trattino Balzan studio grafico invece su Facebook infine se volete qualche informazione c'è l'indirizzo email info chiocciola SoniaBalzan.it il tuo studio è in via Corridori 2 a Paderno Dugnano ok ma è tipo un ufficio tuo? è un ufficio? si primo piano ok però ci sono tutte le indicazioni mi sono organizzata si è organizzata bene bravissima infine vi lascio il numero di telefono il 339 65 90 978 salutiamo anche la nostra Sonia ti ringrazio di averci fatto compagnia stasera grazie a voi grazie a voi grazie a voi